Era soprattutto uno sguardo al passato, per cui che lo s'era consapevole questo cocktail, i giovani sono questo e... Guarda dietro, l'ho detto, non ti ho ricordato, addirittura la scelta del casto è definita per molti di voi azzardata, no? Perché... Noi campani ti vogliamo bene, ti vogliamo bene noi campani, però non abbiamo tanto gradito la battuta sul contrabbando delle sigarette la prima serata. Eh no, sono un po' preoccupati, sono due parole per tranquillizzare i campani. No, ma no, ma state tranquilli, voi non possono fare mai il contrabbando. No, noi lo facciamo, ma facciamo tanto altro. Facciamo tanto altro, Luciana. Non so bene, ma quando si fanno le battute si è politicamente scorretti, e quindi sicuramente c'è il 90% di gente a Napoli che non fa quello, è evidente. Il problema è che quando, a parte che poi sei lì e improvvisi e dici delle robe, e ovviamente per far ridere dici anche delle cose magari un po' cariche, e poi c'è una cosa nel comico che è politicamente scorretto. Se io sono corretta, non faccio ridere, devo sempre dare una roba un po' strana, come a Svisa, una cosa... E adesso, secondo me, diventa tutto, e mi parlavo proprio ieri con Ricci che mi ha campionato, mi ha campionato, che diventa tutto un casino, perché qualsiasi cosa dici non si può più dire.